ciao a tutti oggi altra video ricetta prepareremo le patate con la salsiccia sempre con l'aiuto della nostra frigitrice d'aria procedimento allora incominciamo con cuocere le patate le patate lo tagliate a tocchetti lo lasciate in acqua per più di un'ora le ho scolate le ho condite con un cucchiaio di olio e aromi per patate adesso oggi c'ho l'aiutante cuoco e sirian saluta che l'aiutante adesso mettiamo le patate nella frigitrice ok accendiamo mettiamo 200 gradi per facciamo 25 minuti perché sono un po di più del solito e avviamo ci vediamo dopo mancano sei minuti vediamo come sono e giriamo per vapore adesso adorarsi rimettiamo dentro e finiamo la cottura a dopo ok sta per finire aspettiamo quando suona ok e adesso le nostre patate sono pronte le nostre patate aspetta che facciamo uscire un po di vapore sono pronte 25 minuti 200 gradi belle croccanti come se fossero proprio state fatte al forno se lo facciamo in una poppa adesso mettiamo la salsiccia nella nostra frigitrice io non la taglio la metto così intera aspetta siria fai io posso dire qualcosa di là se devi dire qualcosa le patate se le volete più croccanti potete fare anche più minuti ecco è uguale anche per la salsiccia di una bella girella di salsiccia e la mettiamo dentro mettiamo questa volta però mettiamo il programma del pollo che da 180 gradi per 20 minuti facciamo a siria fallo partire questo ok ci vediamo metà cottura eccoci qua mancano otto minuti alla fine della cottura vediamo la cottura è la nostra salsiccia per ora è la nostra salsiccia per ora è la nostra salsiccia così così il grasso cola via ecco qua la rimettiamo dentro e ci vediamo alla fine della cottura la cottura è finita questa è la nostra salsiccia adesso andiamo ad impiattare e qua si rompe aspetta anche più semplice probabilmente morbida l'ultimo pezzettino abbiamo finito io volevo farvi vedere una cosa dico vieni qua il grasso che ci rimane voglio farvi vedere che con la cottura con la friggitrice tutto il grasso come vedete della salsiccia rimane sul fondo quindi noi non andiamo comunque a mangiarlo invece in padella sarebbe rimasto attaccato alla salsiccia abbiamo mangiato mettiamo le nostre patate ok e adesso andiamo ad impiattare è già impiattato si ecco qua salsiccia con patate per un bel aspetto speriamo sia anche buono il video è finito io e siria vi salutiamo se vi è piaciuto il video mettete un like se volete iscrivervi al mio canale sarei contenta siamo contente e se volete essere sempre connesse attivate la campanellina grazie ciao